Si chiama Zip, sai? Zip, bar e grill. È un posto dove vanno bugiardi, mascalzoni e tutti quei farabutti che mandano all'aria i matrimoni. Sto sistemando la cosa. No, la stai rovinando di più. Oddio. Zip, se vuoi sparami, ma io sono qui sul tuo patio, andrà in prigione. No, se sei dentro casa no, l'ho letto su Google. Muoviti, comincia a entrare. Non s'entendere, non s'entendere. La distanza technological between himself and the negative aspects of his personality. This is a joke, right? No, son, it's a fresh start. I'm not talking to you nutjob, I'm talking to mom Good morning all As of now, Waldo is resigning And putting me Lo sabía, tiene marcas amarillas, claro Dale, caña Nosotros somos de Yastel y te lo recomendamos No lo dudes, cámbiate ahora Yastel se ocupa de todo, todo son facilidades Además, no tienen compromiso en permanencia Y encima ahorras Cámbiate a la DSL de Yastel, ahora gratis el primer mes Resto cuotas 19.95 hasta verano 2012 Con llamadas a móviles gratis para toda la vida Últimos días de promo Llama al 980-8050 Tómate un descanso en Smith Crea tu avatar en 3D Decora tu casa y empieza a jugar Comparte videos, chatea, liga, diviértete Y conoce a más de 5 millones de personas Regístrate gratis en smith.es Tu mundo virtual en 3D Si chiama Zip, sai? Zip, bar e grill È un posto dove vanno bugiardi, mascalzoni E tutti quei farabutti che mandano all'aria i matrimoni Sto sistemando la cosa No, la stai rovinando di più Oddio Zip, se vuoi sparami Ma io sono qui sul tuo patio Andrai in prigione No, se sei dentro casa no L'ho letto su Google Muoviti, comincia a entrare No, la stai rovinando di più No, la stai rovinando di più